Questo ristorante nasce dalla passione e dalla voglia mia e di mio fratello. Dieci anni fa siamo ritornati a Peschici, dopo essere stati fuori dalle nostre origini e abbiamo aperto questo ristorante qui nel centro storico. La nostra passione e la nostra voglia di fare questo mestiere nasce da lontano, visto che la nostra famiglia è stata una delle prime famiglie ristoratrici qui a Peschici, la mia bisnonna è stata una delle prime avanguardiste ad aprire un ristorante qui a Peschici e oggi con le giuste evoluzioni ci siamo trasformati e io e mio fratello sono dieci anni che gestiamo la nostra attività. Il nostro ristorante ha dei piatti che rivisitano le classiche tradizioni garganiche, le classiche tradizioni di Peschici. La mia esperienza culinaria nasce innanzitutto autodidatta, stando in cucina a fianco a mia nonna, a mia mamma che tuttora è presente nella nostra attività solo quest'inverno, poi invece ho deciso di dare una svolta, di sravolgere un po' le regole, ho frequentato la scuola del Gambero Rosso diplomandomi così e diventando chef del Gambero Rosso.